Oggi siamo alla scoperta del San Giovanni Teatino con il direttore generale Stefano Di Russo per parlare di questa squadra neopromossa nel campionato di prima categoria. Un'annata davvero stupefacente per San Giovanni Teatino e per l'intero comune su quattro squadre, ben tre promosse tra queste voi. Che cosa vi proponete quest'anno? L'augurio è anche per il Dragonara che è la quarta squadra del territorio che possa anche lei vingere il campionato quest'anno di terza. Per quanto riguarda noi l'obiettivo è sicuramente quello di raggiungere una salvezza tranquilla. Non abbiamo sicuramente smandellato i ragazzi, la squadra che l'anno scorso hanno fatto bene facendo seconda e vingendo il campionato. Abbiamo fatto degli innesti di spessore perché sono fuori quota importanti che giocavano in categorie superiori. Le prime tre partite stanno dicendo bene, nel senso che abbiamo fatto un pareggio, una sconfitta e una vittoria. Siamo in linea con i programmi, quindi non cambiamo il nostro DNA che è quello di voler far star bene i ragazzi con tanta passione e sperando di raggiungere questa salvezza che è l'obiettivo di quest'anno. Ci vuole parlare un po' anche dell'organico, credo qualche cambiamento ci sia stato per rafforzare l'organico visto che si tratta di un campionato superiore. Sì, come dicevo prima abbiamo fatto qualche acquisto di ragazzi giovani, quindi abbiamo ulteriormente abbassato l'età media dell'organico con ragazzi che venivano da categorie superiori come fuori quota per far sì che potessimo fare un'annata tranquilla e raggiungere questo obiettivo. Poi a dicembre vedremo come saremo messi e ci renderemo conto del da farsi da qui da dicembre in poi. Per chiudere una curiosità più che altro, voi siete espressione della collina, del centro di San Giovanni Teatino, là c'è anche un altro campo dove voi avete giocato in passato, come mai adesso la scelta di giocare qui a Valle? Sì, sicuramente il nostro estratto di nascita è quello di San Giovanni Teatino Alta. Siamo scesi qui nella cittadella dello sport perché è un impianto che fa invidia a tantissime società e per fare un qualcosa di più organizzato i risultati ci stanno dando ragione. Il campo e le nostre tradizioni sicuramente non le abbiamo dimenticate a contonate, purtroppo manca un mando erboso per tornare nella parte alta del paese, sperando che quando prima questo verrà fatto, per noi sarebbe un sogno e torneremo sicuramente nella parte alta del paese. Riccardo Di Persio è il direttore sportivo del San Giovanni Teatino. Entriamo più nel dettaglio con lui parlando dei movimenti di mercato che l'hanno visto protagonista e poi come seconda domanda sulle favorite di questo campionato e sul possibile ruolo della vostra squadra. Allora Antonio, quest'anno direttore sportivo tra virgolette, anche perché noi qui tutta la squadra dei dirigenti non ci piace darci questi nomi ma ce li prendiamo, quindi ognuno cerca di fare tutto quello che può, tutti fanno tutto e io questo è il secondo anno e ringrazio la dirigenza che mi ha dato fiducia dopo il buon lavoro che ho fatto l'anno scorso. L'anno scorso ho lavorato di più rispetto quest'anno perché abbiamo costruito veramente un buon gruppo e quest'anno abbiamo deciso di confermarlo in toto e abbiamo solo puntellato nel parco fuori quota con dei 95 e dei 96 e abbiamo confermato tutti i giocatori dell'anno scorso sempre per dare continuità al nostro progetto anche perché una squadra che gioca insieme già da un anno è anche più in armonia, quindi l'allenatore lo stesso, i giocatori pure e tutti i ragazzi che sono arrivati, tutti i ragazzi umilissimi anche del territorio, quindi forse solo un difensore abbiamo preso che non è fuori quota, Lorenzo Galassi e per il resto sono tutti i ragazzi del posto che già si sono integrati nei meccanismi di squadra. Poi per la seconda domanda ti dirò un girone difficilissimo, noi abbiamo giocato le prime tre partite con Raiano Elice e settimana scorsa con il Verlenge, sono tre squadre secondo me costruite veramente bene con giocatori di categoria che potranno veramente ambire alle prime cinque posizioni senza nulla togliere alle altre. Poi ovviamente per come si dice guardando gli organici la Fater, la Virtus Pratola che ha iniziato un po' balbettando ma secondo me uscirà tranquillamente perché ha un organico veramente fatto di giocatori di categoria quindi poi vincere è sempre difficile, noi abbiamo vissuto l'anno scorso, è sempre difficile vincere quindi bisogna mettere a posto tante cose, quindi secondo me loro usciranno, la Fater è una squadra molto forte e poi attenzione anche al San Marco che è una grande squadra e il Montesilvano Cole quindi se ti devo dire un nome preciso non mi sbilancio però queste sono le più accreditate.